l'attrice torna sul palco che l'ha già vista amatatrice in due edizioni spuntando dalla platea dove interrompe baglioni mentre si accingeva a eseguire una canzone al piano sono tante le battute della raffaele come sex symbol dice a baglioni che fa impazzire le signore poi quest'anno ci sono più mil fallariston che ha le termine di saturnia lui che è stato il primo emo della storia e ora è ancora più bello come il vino ogni anno che passa in vecchi che rappresenta la storia del novecento e sembra lo zio di gianluca vacchi e che ha portato al festival la sua prima fidanzatina quella che balla con lo stato sociale così virginia raffaele mette in mezzo il direttore artistico di sanremo nel suo intervento imita michelle unziker e anche ornella vanoni e le fa dire ho visto gino dietro le quinte abbiamo fatto l'amore io e gino poi contagia baglioni che la imita a sua volta facendo la parodia di belen rodriguez che ancheggia vistosamente il finale esplosivo è il duetto sulle note di canto anche se sono stonata ciao 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 ciao